Come molte sconfitte famose della storia recente, la prima cosa che vi volevo dire è che come Caporetto, come Elala Main, anche Dien Bien Phu ha subito un processo di metabolizzazione che l'ha in realtà trasformato nel mito di Dien Bien Phu, che è una cosa un po' diversa dalla realtà storica, noi non sapremo mai in realtà come è andata a finire, perché per esempio delle quasi 5.000 perdite francesi non sappiamo quanti ne sono morti effettivamente durante l'assedio e quanti invece sono morti dopo, soprattutto sul trasferimento ai campi di concentramento. Probabilmente durante l'assedio sono morti circa 2.300 soldati francesi, che poi in gran parte non erano nemmeno francesi, e gli altri invece sono morti dopo. Per cui ci sono delle forti analogie in piccolo, per esempio su Nikolaevka, cioè sui morti italiani della cosiddetta strada del Davai. Il comportamento in realtà con i prigionieri dei regimi comunisti è sempre molto simile. Al di là di questo, Dien Bien Phu, all'interno di quella che è stata una sconfitta globale dell'Occidente nel sud-est asiatico, che è cominciata con la guerra di Corea e si è conclusa con gli accordi di Parigi del 75, credo che si possa dire che poi Dien Bien Phu è diventato invece un elemento, diciamo, di mitologia positiva in quella che è una particolarissima memoria storica, che è la memoria paracadutista. Cioè Dien Bien Phu si è in qualche modo saldato fortemente col mito della folgora El Alamein. Va detto che sono entrambi i miti meritati, nel senso che sia i soldati italiani della folgora El Alamein, sia i soldati del Rep a Dien Bien Phu si sono comportati in maniera straordinariamente eroica, da un punto di vista strettamente militare. però questo ha trasformato in un certo senso la sconfitta in una vittoria, nella memoria diciamo di nicchia. Nella memoria globale, esattamente come El Alamein, Dien Bien Phu è stata cancellata, soprattutto in Francia, perché la Francia da una parte dopo il periodo de Gaulle, dopo la guerra d'Algeria, ha voluto in qualche modo rimuovere tutte le tentazioni di grandeur e la sua politica coloniale era sempre stato un elemento forte di questa grandeur. Dall'altra parte, perché lo sapete anche voi, la Francia è diventata poi una punta di diamante del mondialismo e per conseguenza, guai, durante la guerra del Vietnam, quella fra i Vietcong e gli americani, la Francia è stata, come dire, la gran cassa della propaganda filo-vietnamita e anti-americana. Quindi la prima cosa da dire è che Dien Bien Phu non soltanto, come diceva lui, giustamente è molto poco conosciuta, ma anche da chi è conosciuta, è conosciuta soprattutto in maniera alla solita storia divisiva, tanto per capirci. Cioè Dien Bien Phu, simbolo dell'eroico popolo vietnamita che lotta per la propria indipendenza, che è vero, e simbolo dell'eroica capacità di resistenza e di combattimento dei paracadutisti francesi, in particolar modo dei legionari, i paracadutisti della legione straniera francese, ed è vero anche questo. Però in mezzo c'è la realtà storica, cioè che Dien Bien Phu è stata, da un punto di vista militare, una delle campagne peggio condotte nella storia moderna. È stata condotta malissimo da un punto di vista logistico, e partiamo proprio da quello, è stata condotta malissimo da un punto di vista politico, perché a Dien Bien Phu i soldati francesi sono stati non soltanto abbandonati dal governo di Parigi, che stava facendo una politica che oggi si chiamerebbe di uscita onorevole, ma insomma una politica in cui dicevano basta, noi ci concentriamo sul Laos, con cui proprio nel periodo di Dien Bien Phu viene stretta un'alleanza militare molto robusta, e del Vietnam ormai, al Vietnam ormai rinunciamo, per tutta una serie di ragioni che poi magari andiamo a vedere. Abbandonati lì e soprattutto è stato un errore clamoroso dal punto di vista tattico, cioè da quella che è nella scienza militare la caratteristica fondamentale sul campo di battaglia. Partiamo dalla logistica. Dien Bien Phu, la vedete, scusate io non so se si vede la manina, la vedete? Dien Bien Phu è una vallata lunga una quindicina di chilometri, esattamente al confine fra Laos e Vietnam. Oggi il Vietnam è unificato, era unificato anche allora, sapete che poi c'è stato un oiato proprio in seguito all'uscita francese che ha creato il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud. L'operazione che si chiama Operazione Polluce, la cosa che mi ha fatto ridere, è che sulla fondazione Pintor, che non so se sapete che fondazione è, è una fondazione di quelle che se la menano perché loro sono colti geneticamente, sono quelli che dettano legge nella cultura italiana, nella fondazione Pintor sono talmente ignoranti che hanno trovato in francese, perché il nome è francese, Operazione Castor, e hanno pensato che fosse l'operazione Castoro, per cui l'hanno chiamata l'operazione Castoro che fa a pari con l'operazione Polluce, che invece è un'operazione che riguarda l'AiCiao, che la vedete lì, ed erano due operazioni congiunte, quindi non solo non hanno capito che erano Castore e Polluce, i Dioscuri, ma hanno tradotto Castor come Castoro, questi sono quelli che dovrebbero essere i metropansè della cultura italiana, tanto di cappello. Comunque dicevo, la vallata si trova qui, si trova a ridosso del confine laotiano, tanto che prima che arrivasse a noi il nuovo comandante, quello responsabile al 100% di Dien Bien Phu, che era il generale Navarre, era il generale Salan, che invece era una vecchia volpe, Salan si era ben reso conto che Dien Bien Phu era una posizione molto difficilmente difendibile, soprattutto inutile, perché l'obiettivo dei francesi era quello di difendere soprattutto le loro basi, che erano piuttosto robuste e ben organizzate, nel Laos. Quindi la prima cosa da dire è che Dien Bien Phu è una battaglia che si combatte in Vietnam, ma è una battaglia che da un punto di vista strategico riguarda più il Laos che il Vietnam. Esattamente come l'AiCiao, cioè la base che viene evacuata nell'operazione Polluce, che come vedete qua si trova a ridosso del confine laotiano, siamo sempre nell'estremo nord-ovest del paese e molto distanti dai punti di rifornimento navali e soprattutto da noi. Che cosa succede? L'atteggiamento di Navarre, che è il comandante in capo delle forze, così come quello che sarà poi l'atteggiamento di Qua de Castry, che è l'ancora più stupido, se è possibile, comandante, colonnello che comanda le truppe a Dien Bien Phu, si basa su un fraintendimento logistico clamoroso, cioè su una sottovalutazione delle capacità logistiche nemiche, vedremo che invece queste capacità con una caratteristica che noi non abbiamo, che hanno soprattutto i popoli dell'estremo oriente, cioè la capacità di fare delle cose folli sacrificando gli uomini, cioè fanno una linea di rifornimento in bicicletta, trasportando tutto su 20.000 biciclette, ne muoiono a fare una cosa spaventosa, poi vedremo anche che combattono in questo modo qui, viene sottovalutata clamorosamente la capacità logistica del Viet Minh, cioè del Partito per la Liberazione del Vietnam e del generale Giap, che era quello che comandava le truppe a Dien Bien Phu, e dall'altra parte una supervalutazione delle capacità logistiche di un esercito moderno, e qui parliamo un attimo di questo esercito moderno, che sono i francesi. I francesi avevano un esempio sotto gli occhi molto recente, che era quello della guerra di Corea, ma prima ancora della guerra di Corea, da un punto di vista logistico, avevano sotto gli occhi un evento che non ha a che fare con la guerra, se non con la guerra fredda, che è in un certo senso il primo evento significativo della guerra fredda, cioè il ponte aereo per Berlino del 48. Quando Berlino viene chiusa nel 48 con l'idea di isolarla e di riuscire in qualche modo a inglobarla in quella che sarebbe diventata la Dede Air, e quindi i russi impediscono l'accesso dall'unica autostrada che arrivava a Berlino, dalla Germania occidentale, chiamiamola così, gli americani fanno un ponte aereo, un ponte aereo che tutti i giorni vede atterrare a Tempelhof centinaia e centinaia di cargo, allora usavano addirittura i vecchi DC-3, che erano gli aerei da trasporto tipo della seconda guerra mondiale, che mantengono il rifornimento con la città di Berlino fino a che i russi tolgono il blocco, tolgono il blocco perché non sono riusciti a impedire il rifornimento di una città di milioni di abitanti per mezzo di questo ponte aereo. Questo ponte aereo dà ai francesi, che usavano i vecchi C-47 come aerei da trasporto, i vagoni volanti, dà ai francesi l'illusione che si possa rifornire un reparto, un grosso reparto a Dien Bien Phu, la guarnigione oscilla sempre fra i 10.000 e i 15.000 uomini durante il periodo, fra il novembre del 53 e il maggio del 54, si possano rifornire per mezzo di un ponte aereo, cioè che la logistica moderna consenta di mantenere delle truppe operative anche a livello di grossi reparti, cioè di una divisione, a centinaia di chilometri dalle basi di rifornimento per mezzo degli aerei, il che non è. È stato dimostrato almeno in due occasioni, una è stata Cereberina a Stalingrado, quando Goering ha assicurato a Hitler che avrebbe potuto portare ai soldati di Stalingrado rifornimenti in quantitativi ingenti grazie all'aviazione e non è riuscito a farlo, non è riuscito a portare a Stalingrado nemmeno un decimo di quello che aveva promesso di portare, lo stesso succede per motivi del tutto diversi nel caso di Dien Bien Phu, perché la battaglia di Dien Bien Phu avviene nel periodo monsonico, il che vuol dire che per i soldati a terra si combatte nel fango, cioè tutte le fortificazioni scavate nel terreno si trasformano in una poltiglia fangosa, ma gli aerei non possono volare a bassa quota per via delle nuvole, non possono essere precisi e non possono più volare a bassa quota nemmeno perché altra enorme sottovalutazione del nemico, perché non avevano calcolato la presenza della contraerea vietnamita, che si rivela una contraerea molto efficace e quindi devono sganciare da 2000 metri di quota, mentre lo sgancio tattico normale è da 600 metri di quota. Per cui la gran parte dei rifornimenti finiscono nelle mani dei soldati del Viet Minh, che si trovano, come vedremo nelle fotografie, sulle colline tutte intorno a questa conca di Dien Bien Phu. Dall'altra parte rischiano fortemente di essere abbattuti, i lanci sono molto imprecisi e oltretutto comunque non sarebbero riusciti a garantire l'approvvigionamento alla guarnigione, alla fine non riescono nemmeno più a evacuare i feriti, per cui, allora che cosa succede? C'è un cambio di... Da Laos non potevano rivolgirvi che... Eh no, perché fra il Laos, scusa, te lo faccio vedere, fra il Laos e Dien Bien Phu, in mezzo, in quelle montagne lì, ci sono i soldati di Japp, per cui avrebbero, se avessero vinto la battaglia avevano risolto, ma il problema è che Dien Bien Phu era il confine con Laos, ma non era in Laos, cioè è come dire la battaglia di Valleve, però in mezzo c'è il Casamarco prima di arrivare in Valtellina, le mie basi sono in Valtellina, però finché non prendo il Casamarco, uguale, certo si tratta di colline alte 500 metri, non si tratta di montagne, che però come vedrete in quel contesto lì fanno la differenza. Quindi questi qui pensano di poterli rifornire in questo modo e non è vero, non riescono nemmeno a fare affluire a Dien Bien Phu dei rinforzi via terra, i rinforzi che vengono mandati lì e questa è la ragione per cui Dien Bien Phu è una battaglia di paracadutisti, non è tanto perché ci sono all'inizio questi quattro battaglioni in parte della legione, in parte dei paracadutisti metropolitani francesi, che sono quelli che all'inizio vengono mandati lì, se avete visto il film, quello con Mel Gibson, We Were Soldiers, ecco il concetto è esattamente lo stesso, viene mandato un reparto d'avanguardia, cioè questi quattro battaglioni parà, che occupano questa posizione, che prima era occupata dal Viet Minh, il Viet Minh se ne era ritirato perché non gliene fregava niente in quel momento, nel novembre del 53 viene rieoccupato da quelli che oggi noi chiameremmo degli incursori, vengono mandati lì e cominciano a lavorare, lavorare vuol dire soprattutto fare le due piste d'atterraggio che erano il cordone ombelicale di Dien Bien Phu e che sono state in qualche modo l'oggetto della battaglia, ma poi sono stati lanciati più di 3500 paracadutisti nel corso della battaglia che erano l'unico modo di fare affluire truppe di rinforzo ai soldati che si trovavano a Dien Bien Phu, quindi pensare di poter vincere una battaglia rifornendo le truppe a terra soltanto per via aerea e mandando rinforzi soltanto per via aerea, cioè con una violancio, era obiettivamente una follia, non è mai stato fatto e non è mai riuscito una cosa del genere, eppure i francesi lo fanno, lo fanno lo ripeto in un contesto politico in cui ai francesi ormai non gliene fregava più niente di Dien Bien Phu e credo che uno degli aspetti del mito eroico di Dien Bien Phu sia proprio questo, che quelli che sono rimasti a combattere, perché con i francesi combattevano anche per esempio dei battaglioni Tai, cioè dei battaglioni composti da soldati laotiani filo francesi, i battaglioni Tai, in particolare il terzo battaglione Tai, si disgrega e questi qua scappano, smettono di combattere, in confronto a loro i francesi dicono no, noi invece non ci arrenderemo mai, tanto è vero che i mille di Lalande, alla fine quelli che difendono, lo vedremo, la postazione Isabel che era quella più a sud e che è stata l'ultima a cedere, sono in mille circa, un battaglione e si fanno ammazzare tutti, proprio dal primo all'ultimo, cioè questo mito nasce proprio dall'idea del siamo stati abbandonati da tutti, compresa la maledetta madre patria e questo avrà delle ricadute, parlavamo prima di Algeri, della battaglia d'Algeri, avrà delle ricadute fortissime nel comportamento della legione e dei Parà in Algeria nei confronti del governo francese, c'è questa idea di dire noi vi facciamo il lavoro sporco e voi ci abbandonate. Quindi errori su errori su errori che partono dal comando, da Navarre e arrivano poi a Qua de Castry che causano il disastro militare di Dien Bien Phu. Ma forse il punto più dolente è che se c'è una caratteristica comune di tutte le guerre coloniali è che le guerre coloniali sono sempre state combattute pensando di avere di fronte dei barbari sprovveduti. Penso agli italiani ad Adua, l'idea era quella che le milizie etiopiche non si chiamavano neanche esercito e gli italiani ignoravano perfino che l'Etiopia aveva una tradizione militare fortissima, era una sorta di Prussia africana da questo punto di vista, non avrebbero mai potuto resistere a un esercito occidentale armato modernamente e organizzato modernamente. È inutile che vi dica come è andata a finire nel caso di Adua. Qui è la stessa identica cosa, cioè c'è una sottovalutazione scientifica di Japp e delle sue direttive, della strategia del Viet Minh che veniva visto un po' come un appendice di quello che facevano i cinesi, che era un modo di combattere che si chiamava l'onda umana, cioè il dire noi schiacciamo la posizione nemica con il numero, perché il soldato comunista si sacrifica per la causa. Japp non è affatto un demente accecato dall'ideologia. Dopo il primo attacco, quello che porta alla conquista del primo baluardo che è Beatrice, in cui i vietnamiti perdono circa 2000 uomini, cioè hanno circa 2000 morti in un giorno, nella giornata tra il 13 e il 14 di marzo, hanno circa 2000 morti. Sono delle perdite da battaglia sul Carso. Dopo questo primo attacco, Japp, poi lo vedremo, cambia completamente la propria tattica, ma non perché prima avesse delle idee e poi le ha cambiate, ma perché prima ha seguito le direttive che gli erano state date dai cinesi. Poi ha detto, no, alt, questa è una guerra che ci combattiamo noi e ce la combattiamo a modo nostro. E inaugura quel modo di combattere che poi diventerà caratteristico della guerra del Vietnam, cioè una guerra da talpe, inizierà a scavare gallerie, a scavare trincee e come vedremo, ci sono delle analogie tra l'altro grottesche, però il modo di avvicinarsi alle ridotte di Dien Bien Phu da parte del Viet Minh è quello che ha fatto Badoglio sul Sabotino, cioè l'avvicinamento per parallele si chiama. Cioè noi scaviamo una serie, il Sabotino è pietra, per cui è più difficile, ma noi scaviamo una serie di parallele che si avvicinano sempre di più al centro di fuoco nemico in modo che quando andiamo all'attacco dobbiamo percorrere meno strada. Il Viet Minh si comporta esattamente così. Vediamo se becchiamo la foto giusta adesso, ecco, benissimo. Allora se la ingrandisco un pochino, dove vai Giovanna? Eccolo lì. Allora noterete, ecco questa è Isabel, Gabriele è l'estremo nord-ovest, Isabel è l'estremo sud-est. Ciao, grazie ancora, anche a te. Isabel è l'estremo sud-est e Gabriele è l'estremo nord-ovest. Queste colline che qua non si vedono, che poi vi faccio vedere, qua dividono il Vietnam dal Laos. Come potete vedere tutto intorno a questa conca del fiume ci sono delle alture. Tutte queste alture sono controllate dal Viet Minh, ma non da sempre. Sono controllate dal Viet Minh perché prima Navarre, ma soprattutto Qua de Castrie hanno deciso non di andare a ripulire con delle azioni chirurgiche le alture intorno e difendersi da lì, ma di trasformare Dien Bien Phu in una fortezza inespugnabile. Poi vi faccio vedere con cosa la costruivano e capirete che era un'idea un po' bizzarra. Il sistema difensivo viene fatto con una sorta di versione moderna di quelle che erano le città fortificate nella Prima Guerra Mondiale. mi viene in mente Premzil che ha intorno 11 fortezze perimetrali, oppure Verdun, cioè c'è un centro di comando intorno al quale a distanza, nel caso di Verdun, di chilometri, qua di centinaia di metri, si trovano dei luoghi fortificati. La differenza fondamentale tra Premzil, Verdun e invece le fortificazioni di Dien Bien Phu è che quelle là erano in cemento armato. Queste qui sono fatte scavando nel fango, nella terra, con sacchi a terra e con delle blindature fatte di lamiera. Tutto questo avrebbe potuto funzionare, poi dopo vi dico perché hanno questi nomi così evocativi, Claudine, Françoise, ed è una delle ragioni per cui poi esploderà quella che viene chiamata la mafia dei paracadutisti, contro il comandante di Dien Bien Phu. Dicevo, questo sistema viene fatto anche perché c'è un'altra sottovalutazione veramente drammatica ed è la ragione per cui Pichot, cioè il comandante dell'artiglieria francese, già nella notte fra il 14 e il 15 marzo si suiciderà tenendo in mano una bomba a mano, toglie la linguetta e si ammazza. Perché hanno completamente sbagliato le loro valutazioni sulle capacità dell'artiglieria vietnamita, completamente. Cioè hanno pensato che i Viet Minh non possedessero un parco d'artiglieria d'assedio, stiamo parlando di cannoni non particolarmente grossi, di obici da 105, mentre invece il Viet Minh ne schiera tre reggimenti sulle alture, quindi con un campo di tiro perfetto, mentre i francesi sono convinti che l'avversario abbia poche artiglierie e che queste poche artiglierie possono essere controbattute efficacemente dalle artiglierie francesi. Tra l'altro vi comunico che i modelli di cannoni che avevano i francesi e che avevano i Viet Minh, anche se i francesi non lo sapevano, erano uguali, erano gli obici da 105 americani della guerra di Corea, tanto per capirci. Questo per una maggiore capacità, per i telemetri, per quella spocchia un po' caratteristica degli occidentali nelle guerre coloniali e dei francesi in qualunque cosa facciano. Vi ricordo che i francesi nelle ultime due guerre mondiali e nelle guerre coloniali che hanno fatto le hanno sempre prese clamorosamente. La differenza fondamentale fra gli italiani e i francesi è che quando noi perdiamo una battaglia ci costruiamo su una tragedia greca e andiamo a dire a tutti che non siamo capaci di fare la guerra. I francesi quando perdono le guerre fanno finta di averle vinte. Questa è la differenza fondamentale. Comunque, dicevo, il comandante dell'artiglieria francese garantisce a Qua de Castrilli, dice guarda, dopo la terza salva, sapete che il tiro d'artiglieria si fa con la cosiddetta forcella, un tiro lungo, un tiro corto, il terzo tiro a bersaglio. Dopo la terza salva io annullerò l'artiglieria vietnamita. Tranquillo. I francesi non soltanto non sono riusciti ad annullare l'artiglieria vietnamita, ma sono stati completamente sovrastati dall'artiglieria vietnamita, che ha fatto tutto quello che voleva. La maggior parte delle vittime di Dien Bien Phu sono morte per il bombardamento d'artiglieria. Se lasciamo perdere i paracadutisti di Isabel. Bombardamento d'artiglieria che ha consistito anche nel tiro contraereo contro i paracadutisti, cosa che come sapete nella seconda guerra mondiale fino ad Arnhem non si era fatta, perché la convenzione di Ginevra del 29 diceva che un soldato che non è combattente, non si prevedeva il lancio di paracadutisti, ma il soldato non combattente non è una minaccia e quindi i paracadutisti erano una via di mezzo, erano una minaccia potenziale. All'inizio della guerra si tende a non sparare al paracadutista che si lancia, dopo l'esperienza di Creta tutto questo cambia, ad Arnhem, a Semer Eglise, altro che spararli addosso. I Viet Minh fanno esattamente la stessa cosa, tirano con le loro contraeree non sui cargo C-47 ma tirano direttamente sui paracadutisti, per cui sono anche quelli morti d'artiglieria. Sottovalutazione di nuovo e vi faccio vedere l'arma decisiva, questa è l'arma non decisiva, questo è un carro leggero, i francesi ne avevano 10, pensavano che fosse l'arma utile per combattere contro l'onda di fanterie, in realtà come potete vedere i carri si muovevano nel fango, qua è una risaia per cui ancora va bene, ma si impantanavano nel fango e sono stati pressoché inutili. Si chiamano carri leggeri ma come potete vedere rispetto per esempio ai carri che avevamo noi e alla main pesano circa tre volte di più, sono dei carri da 30 tonnellate. Ma l'arma è questa, ecco questo qua è l'obice da 105, è stata per quasi 20 anni la media artiglieria tipo non solo degli americani ma degli eserciti occidentali. Questa che vedete è una fotografia del Vietnam al tempo della guerra, della guerra del Vietnam, questi sono soldati sud vietnamiti, questi che vedete. È un'arma molto semplice, abbastanza precisa, molto resistente, leggera, facile da spostare. Come mai il Vietnam aveva questi obici? Erano preda bellica cinese della guerra di Corea e quindi questi cannoni attraverso la Cina erano poi passati alle milizie vietnamite, non soltanto, ma le milizie vietnamite potevano contare a un certo punto, sì ecco fermiamoci qua, potevano contare a un certo punto anche su dei missili terra a terra che gli erano stati forniti dall'Unione Sovietica. E qui bisogna fare un primo distinguo, nel senso che il Vietnam a differenza della Corea esce in un certo senso dalla sfera d'azione della Cina, nonostante che come sapete confini con la Cina, soprattutto sul suo lato orientale. Perché i cinesi, Ho Chi Minh, che è il referente vietnamita, e Chiu En Lai, che è il referente invece cinese, non si mettono d'accordo sul procedere nella guerra, perché Ho Chi Minh vorrebbe fare una politica di distensione. E quindi Chiu En Lai vorrebbe fare una politica di distensione. Ho Chi Minh quindi comincia a guardare sempre di più all'Unione Sovietica, piuttosto che al Vietnam, piuttosto che alla Cina. L'Unione Sovietica fornisce questi missili che non sono, scusate, non sono i missili di oggi, non sono dei missili filo o teleguidati, sono dei missili tipo Katyusha, ma che hanno un effetto piuttosto efficace su questo tipo di fortificazioni. Vi prego di notare, questa è una fortificazione, questa è Dien Bien Phu oggi. Come potete vedere si tratta di trincee scavate nella terra con dei sostegni in legno, non so se lo vedete qua in basso. Quindi siamo alla prima guerra mondiale, con delle ridotte che sono fatte con queste lamiere rinforzate dai sacchi a terra e da pietre. Ora, un tipo di difesa così è, si può considerare una fortezza se la attacchi con i fucili e le mitragliatrici, ma contro il tiro organizzato di tre reggimenti di artiglieria media, cioè questa non è assolutamente in grado di resistere, infatti non ha resistito. E qua potete vedere qual era la situazione geografica di Dien Bien Phu, questa è la vallata, la fotografia è ripresa dalla parte laotiana, cioè al di là delle colline da cui è stata fatta questa fotografia c'è il Laos e i francesi anziché cercare di conquistare le ridotte che non erano ancora particolarmente difese su queste colline qui intorno, di qui e di lì, decidono di arroccarsi qua sotto e di costruire quel villaggetto fortificato che avete visto prima qua, dislocando nel punto più avanzato questo caposaldo Beatrice che era fondamentalmente una serie di centri di fuoco di armi automatiche e di collocare invece nella parte più meridionale, cioè qui, Isabel che era invece il più potente raggruppamento di artiglierie e anche per questo sarà l'ultimo a cedere. Il centro di comando di Qua de Castrie si trovava al centro di questo schieramento dove c'era anche l'ospedale. C'erano poi due piste d'atterraggio, due piste d'atterraggio allo stile indocinese, cioè delle piste che erano fatte con i bulldozer spianando praticamente i prati e trasformandoli in strisce di terra abattuta. Queste piste d'atterraggio sono state prima devastate dal tiro d'artiglieria dei Viet Minh e poi rese definitivamente inutilizzabili dal monsone che le ha trasformate come potete immaginare in una palude. Altra sottovalutazione, il non tener conto del fattore climatico, cioè il non, ed è sempre quello poi l'errore, lo vedremo se volete poi, l'errore dei militari d'accademia. Il fatto di applicare la teoria militare in astratto senza tenere conto di dove si combatte. Guardate che questo errore lo hanno fatto anche gli americani, cioè gli americani hanno pensato di combattere la guerra in Vietnam come avevano combattuto la guerra in Corea. La guerra in Corea era una guerra di massa, perché quando i nordcoreani con l'aiuto dei cinesi occupano la Corea del Sud e arrivano gli americani e poi li respingono e poi di nuovo intervengono in massa i cinesi, si tratta di una guerra a vecchia maniera, cioè trincee, attacchi alla baionetta, bombardamenti di aeree e di artiglieria. In Vietnam non è stata una guerra così, è stata una guerra di logoramento, cioè inaugurata a Dien Bien Phu la guerra d'attrito, uso volontariamente il termine guerra d'attrito che era quello che aveva usato von Falkenhayn a Verdun, la guerra d'attrito consisteva esattamente in questo, io ti costringo ad allungare le tue linee di rifornimento, te le interrompo con delle azioni di guerriglia, ti continuo a punzecchiare e alla fine tu crolli. Gli americani, Westmoreland che era quello che si era studiato le campagne francesi in Indocina, era uno che poi era convinto che non avrebbero commesso lo stesso errore dei francesi perché gli americani si muovevano, avevano soprattutto il supporto aereo, ma non sapevano cosa colpire con il loro supporto aereo, per cui o bombardavano con i B-52 da 10.000 metri d'altezza e facevano terra bruciata, oppure se volavano più bassi in queste valli, perché poi il Vietnam del nord è tutto fatto così, in queste valli i loro aereo rischiavano veramente grosso e infatti gli americani potevano vincere la guerra in Vietnam in un solo modo, spianando il Vietnam del nord, certo avrebbero potuto farlo, ma poi come sarebbe andata a finire? Cioè sarebbe stata la reazione internazionale a una campagna di bombardamento indiscriminato? Vi prego di pensare a com'era l'opinione pubblica al tempo nei confronti della guerra del Vietnam, la stessa cosa avviene qui, c'è la paura dell'Unione Sovietica, è appena morto Stalin, c'è una distensione generale nei confronti del blocco dell'est in cui la Cina e la Russia non sono ancora visti come due entità tanto diverse, è soltanto dal 50 che il partito comunista cinese è al potere in maniera assoluta, fino a quel momento c'era una guerra in corso, pensate anche a quello, in quel contesto lì anche i francesi non avrebbero potuto intervenire con tutto il loro potenziale militare, perché sarebbe stato enormemente rischioso anche da un punto di vista politico, e allora cosa hanno fatto? Hanno preferito abbandonare Dien Bien Phu, abbandonare Dien Bien Phu in fondo cosa hanno detto? Oggi si chiamano danni collaterali, hanno perso 10.000 uomini fra morti, feriti e prigionieri, piuttosto che infognarsi in chissà quali disgraziate avventure, facciamolo. La verità vera è che a Dien Bien Phu, e lo sapeva benissimo Salan prima, e lo sapevano benissimo anche quelli che sono rimasti come vice di Navarre e che conoscevano bene la situazione, non si poteva vincere. Cioè una battaglia del genere non poteva essere vinta e allora uno si chiede ma per quale ragione l'hanno combattuta? Tant'è vero che dopo Dien Bien Phu praticamente il Vietnam è stato abbandonato a se stesso, si è creata la linea del 17esimo parallelo come demarcazione, imitando il 38esimo parallelo della Corea, quindi il modello era quello Corea, modello che si è rivelato poi nel caso del Vietnam catastrofico, ma insomma i francesi si sono spostati in Laos, da cui poi con le note vicende anche da lì se ne sono andati via eccetera eccetera eccetera. Dico allora perché Dien Bien Phu? Lo ripeto perché Dien Bien Phu è in qualche modo una battaglia schiava di una mentalità, di una mentalità arretrata da un punto di vista militare, arretrata da un punto di vista geopolitico, mi viene in mente nella guerra di Libia il generale Cantore, io sono un alpino per cui mi dispiace parlare male di un generale famoso degli alpini, però il generale Cantore per certe cose era un completo imbecille esattamente come Navarre, che andava all'attacco ad Erna alla ridotta Lombardia, si alzava in piedi e col frustino diceva avanti che sono quattro straccioni, insomma poi se ti ammazzano tanto è vero che nel 1915 si è preso una palla in fronte proprio per questo motivo, per cui anche qui c'è un malinteso senso di superiorità nei confronti di gente di cui non sapevano nulla, non sapevano nulla perché non sapevano che questi erano armati come loro se non meglio di loro ed erano cinque volte più numerosi, cioè l'idea di non prendere queste colline che vedete, adesso ve le faccio vedere in un'altra foto, ecco qua vedete che tipo di paesaggio è, cioè mettere qui una base e non avere postazioni qui intorno è un suicidio, ma lo capirebbe anche un bambino, perché non le hanno messe? Perché hanno pensato che questi qui in qualunque momento li avrebbero potuti sloggiare con le solite quattro cannonate avanti che sono quattro straccioni, invece non erano affatto quattro straccioni, erano 50.000 soldati, certo poi non erano vestiti, non avevano il blessiel dei francesi e non erano tutti tirati elegantini, magari non avevano neanche gli elmetti, ma avevano armi efficaci, avevano un'artiglieria che funzionava, avevano una logistica favorevole e infatti le ne hanno suonate veramente tante. E adesso veniamo al particolare qui, ecco lo vedete. Allora, l'idea originaria di Navarre era quella di creare con Dien Bien Phu una specie di cittadella sicura per i francesi e da Dien Bien Phu ripulire, cioè poveretto, aveva veramente dei progetti faraonici, ripulire il confine laotiano, partendo da Dien Bien Phu. Per fare questo avrebbe avuto bisogno di due cose fondamentalmente, cioè che la sua avanguardia, poi vedremo anche da chi era composta questa sua avanguardia, non rimanesse solo lì a fare l'avanguardia ma che arrivasse il grosso delle truppe, che invece era stanziata da noi, intorno a noi. E la seconda cosa è che non avesse dall'altra parte un nemico, perché quando il nemico fra il fiume Nero, che è quello che passa da Dien Bien Phu, e il fiume Rosso, aveva un sistema logistico quasi perfetto, rifugi tranquilli, poteva sconfinare in Cina in qualunque momento e lì avrebbe trovato appoggio, armamenti e tutto il resto. Insomma, era un'idea assolutamente folle. Il progetto Castore e Polluce, cioè quello che poi noi chiamiamo la battaglia di Dien Bien Phu, doveva essere un progetto di breakdown, cioè un progetto di ritirata onorevole. Si è trasformato proprio a causa di Navarre e della sua idea malsana di guerra coloniale, si è trasformato invece in un'offensiva. Cioè l'idea era quella, noi partiamo da Dien Bien Phu e poi ripuliamo tutto quanto. Chi era Navarre? Allora Navarre era il solito ufficiale di carriera venuto da Saint-Cyr, o forse da, sì da Saint-Cyr neanche da Saumur, che aveva quest'idea della guerra d'attacco, che è un'idea un po' tipica dei francesi. Cioè la guerra si vince attaccando. Napoleone ha fatto molti danni in proiezione futura ai francesi. Ma quello che è peggio è che quello che lui manda a comandare il contingente, cioè il signor Roy de Castry, di cui adesso vi dico, era il personaggio meno indicato per combattere questa guerra. Tanto è vero che perde il comando, ma non perde il comando perché gli viene tolto, perde il comando perché i comandanti dei battaglioni paracadutisti durante la battaglia, la battaglia dura 56 giorni, cioè dura dal 13 di marzo al 7 di maggio. Durante la battaglia i comandanti dei battaglioni paracadutisti smettono di obbedirgli, lo saltano a pie pari e decidono autonomamente la difesa. Cioè lui esiste in quanto entità, formalmente ha il comando della piazza, ma in realtà si è realizzata quella che lui chiamerà mafia dei paracadutisti e che poi accompagnerà come noi abbiamo in Italia il mito dei leoni della folgore, che in Italia sono visti sempre come dei fascisti. Cioè sostanzialmente la minaccia rappresentata dalla divisione poi brigata folgore è che sono fascisti, sono bravi, sono coraggiosi, sono eroici, però sono fascisti. Invece i paracadutisti francesi in Francia l'idea è che sono bravi, i legionari soprattutto, cioè quelli del rep, sono bravi, sono valorosi, sono truppe straordinarie, però fanno sempre di testa loro, sono incomandabili, si mettono d'accordo tra loro, la mafia dei paracadutisti. Che cosa succede? Succede che il nostro amico Roi de Castry non comanda più perché non è più in grado di comandare. È uno talmente stupido da avere, come dire, dato il nome delle varie ridotte che difendono D&B & Food delle donne con cui è stato. Vi dicevo prima i nomi strani, Isabelle, Beatrice, Caroline, sono donne con cui lui ha trombato, cioè dà alle ridotte il nome delle sue fidanzate, scusate dico fidanzate, provate a immaginarvi questo individuo che si è fatto due guerre mondiali, quindi ha una certa età, con la caramella all'occhio, che non è un paracadutista, è uno che viene dalla cavalleria, è per quello che mi chiedevo se viene da Saumur o da Saint-Cyr, che sono le due scuole, Saumur è diventata poi scuola carristi, cioè è un cavalleggero di quelli che vanno in giro con gli stivali belli unti, con la caramella, è uno che proviene dalla scuola tattica della prima guerra mondiale, che poi si è portato dietro, è uno sconfitto del 1940, provate ad immaginarvi come lo vedono questi comandanti che hanno passato la vita a combattere nei posti più assurdi del mondo con degli uomini che soltanto della gente con un pelo così riesce a tenere in quella disciplina. E si ritrovano un fesso del genere, uno che diceva beh, allora come lo chiamiamo quel centro di fuoco lì? Eh quello lì lo chiamiamo dunque fatemi pensare, nel 49 stavo con una che si chiamava Carolina, chiamiamolo Caroline. Per cui in realtà al di là di, io spero di avervi reso l'idea degli enormi, se non sono errori equivoci militari che stanno dietro a Dien Bien Phu, ma c'è anche una questione psicologica a Dien Bien Phu, cioè che c'è un comandante che non comanda un bel niente perché è un perfetto imbecille, è uno che quando, che a un certo punto si arrende, cioè alza bandiera bianca sul suo comando e gliela fanno tirare giù, perché dicono ma come alzi bandiera bianca ma stiamo ancora combattendo e gliela fanno levare e quando i Viet Minh arrivano al suo comando questo qua si arrende ed è terrorizzato l'idea che lo fucilino. Questo mentre, scusate, mentre su sei comandanti dei reparti rep e paracadutisti, cinque muoiono in combattimento. Questa è la differenza fondamentale. Ecco allora che, e questo contribuisce alla creazione di quel mito che vi dicevo di Dien Bien Phu, ecco che i paracadutisti all'interno della battaglia di Dien Bien Phu rappresentano una cosa diversa, perché a Dien Bien Phu non ci sono soltanto loro, ci sono i battaglioni tai, che come vi ho detto sono dei battaglioni piuttosto raccoglitici di volontari laotiani, ma ci sono anche dei reparti coloniali non paracadutisti, ci sono per esempio i tirareurs magrebini, cioè i fucilieri magrebini, che sono quelli che per capirci avevano combattuto a Monte Cassino, quelli che non sono esattamente quelli lì, però provengono da quei reparti lì, cioè ci sono dei reparti metropolitani di fanteria francese, cioè c'è l'artiglieria che è quella che a Dien Bien Phu brilla per la sua incapacità totale. I paracadutisti a un certo punto combattono, io ho questa sensazione di fronte a Dien Bien Phu, che i paracadutisti alla fine non abbiano più combattuto in nome della Francia, ma abbiano combattuto in nome del reparto, cioè che non abbiano più difeso la patria, hanno capito che, non voglio dire l'Indocina, ma che Dien Bien Phu era perduta e che la Francia aveva già accettato l'idea che fosse perduta. Allora per quale ragione dopo la resa ufficiale, cioè dopo che si era reso il comando, per quale ragione il caposaldo Isabel continua a combattere fino a che non muoiono tutti? Non per la Francia, perché ormai la Francia è la Francia, ma per i reparti, in nome dell'onore dei reparti. E questo da una parte è molto paracadutista, dall'altra parte dimostra che questi qui non erano molto francesi, infatti i francesi percentualmente non sono stati il 50%, il resto erano italiani, tedeschi, belgi, era la legione straniera, erano i rep della legione straniera. Indovinate un po' da dove venivano alla legione straniera quei rep. Erano i vinti, gli sconfitti della seconda guerra mondiale. C'era fra la gente di Dien Bien Phu, e questo non si dice mai, c'erano tantissimi che avevano già perso un'altra guerra e che non volevano più perderne un'altra, non volevano arrendersi. Perché il mito di Dien Bien Phu attecchisce anche in Francia negli ambienti non solo paracadutisti ma dell'estrema destra? Perché ci sono delle analogie fra la resistenza di Isabel e la resistenza degli ultimi Waffen SS a Berlino, perché il meccanismo è esattamente quello. Io so che sono stato sconfitto, so che sto combattendo non più per vincere la guerra ma per l'onore, soltanto per quello, e scusate, la mitologia di quei reparti viene da lì. Giusta o sbagliata che sia, ma viene da lì. E quindi è inevitabile che chi in qualche modo ha rispettato e rispetta quel tipo di sacrificio, quello dei ragazzini della Charlemagne, che vi ricordo vengono poi fucilati dai francesi in divisa americana nel 1944. Quei soldati lì sono poi le stesse persone il più delle volte che vanno nella legione straniera e che si ritrovano a combattere a Dien Bien Phu, come in Algeria. E quindi, poi dopo la chiudo, e quindi l'ultima cosa che io vi volevo dire di Dien Bien Phu è che è una cosa che non è staccata da tutto il resto. Di solito, come viene presentata storicamente, si dice che c'è la guerra fredda e all'interno della guerra fredda c'è la decolonizzazione, che è un fenomeno legato alla guerra fredda. In particolar modo, in Asia, vale a dire l'indipendenza indopachistana, il sud-est asiatico, sono fenomeni legati alla guerra civile cinese, alla guerra fredda, al fatto che a un certo punto i confini nord di questi paesi diventano confini con paesi comunisti e quindi, come se il comunismo fosse una specie di infiltrazione d'acqua, a un certo punto lì si sviluppano dei forti partiti comunisti locali che fanno proprio quel comunismo nazionalista che è caratteristico della Cina, cioè un comunismo che vuole anche liberare il paese dall'oppressione straniera o, nel caso della Cina, da Chiang Kai-shek e dai nazionalismi, dalle tradizioni, dall'influsso occidentale e così via. Ma non è solo questo. C'è sicuramente questo filone che è la chiave di lettura alta storicamente, ma c'è anche una chiave di lettura più umana, più minimale, in cui Dien Bien Phu è una delle ultime battaglie della seconda guerra mondiale. E' questa la verità, che Dien Bien Phu è uno dei tramiti molto più della guerra di Corea. La guerra di Corea per gli americani rappresenta, posso dire due cose che apparentemente non c'entrano su questo, che riguardano, non so se voi avete visto, Gran Torino, film di Clint Eastwood, lui è fissato con la guerra di Corea. La guerra di Corea avviene cinque anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, cioè non la combatte una generazione diversa, mi seguite? Eppure la combattono soldati diversi, cioè i soldati che combattono in Corea non sono i soldati che hanno combattuto nella seconda guerra mondiale e la memoria dei reduci della seconda guerra mondiale, fondamentalmente dello sbarco in Normandia in America è una memoria diversa dai reduci della Corea. Sono due memorie diverse, due guerre diverse. Questa qui invece è una guerra che in larga parte è combattuta da gente che ha fatto la seconda guerra mondiale. Ma il problema è che è combattuta in parte da gente che nella seconda guerra mondiale combatteva contro i francesi, non per i francesi. Perché la legione straniera è stata insieme a Odessa è stato uno dei serbatoi degli sconfitti della seconda guerra mondiale. Quindi a maggior ragione va rimossa, non va raccontata, guai a raccontarla. Pensate che non fanno nemmeno delle cerimonie nel cimitero ufficiale che è stato fatto per i caduti di Dien Bien Phu. Cioè ci vanno soltanto le famiglie dei caduti e dei reduci. Lì, a Dien Bien Phu. È stato fatto una specie di monumento sul cimitero di guerra. C'è la foto su Google. L'hanno permesso? No, alla fine, dopo la guerra del Vietnam è stato fatto, è di adesso il monumento. Adesso c'è ancora il comunismo di Vietnam. Baci, vai a vedere com'è il comunismo. Guarda, sai qual è il comunismo del Vietnam adesso? Che se tu vai là e tiri fuori un mazzo così di euro, anzi di dollari, perché gli vanno i dollari, cioè questi qui sono disposti a baciare la fotografia di Goering se tu gli dai dei dollari. C'è altro che il comunismo. Vabbè, lasciampella. E ultimamente si sono avvicinati agli Stati Uniti perché hanno paura del cinese? No, ultimamente si sono avvicinati agli Stati Uniti perché hanno paura di restare senza ghelli. e sono anche un po' stufi. Però quello che sto dicendo è che in Francia, per esempio, il culto dei caduti, su cui la Francia ha costruito alcuni dei suoi miti anche turistici, penso a Verdun, che ha avuto nel 1916, non ancora finito, ha avuto quasi 4 milioni di visitatori. Nel 2016, scusate, a cento anni dalla battaglia. Non gliene frega niente, non ne parlano proprio. Perché Dien Bien Phu non è una sconfitta francese e non è una vittoria francese. Abbiamo iniziato dicendo che viene rappresentata come un mito vittorioso anche se è una sconfitta. È qualcosa di fuori dall'idea francese. Cioè Dien Bien Phu è un mito in qualche modo mondiale. Cioè fa parte di quella mitologia mondiale che affascina alcuni personaggi craniolesi come me e qualcun altro, in cui troviamo la folgola e la lame, in cui troviamo i ragazzi da lasciare le mani, in cui troviamo questi sconfitti che alla fine a me personalmente non piacciono perché dico «Ah sì, che bello, sono di destra». Cioè scusate, uso un termine patetico. Mi piacciono per quest'idea perché sono gli ultimi che hanno combattuto per qualcosa di diverso da un interesse politico. Questi hanno combattuto completamente fuori da un interesse politico. Il loro paese politicamente li ha disconosciuti, li ha abbandonati completamente. A un certo punto hanno smesso perfino di fare gli aviolanci, hanno detto «Vabbè, vai, così». E alla fine questi hanno resistito a meno di due mesi, ma in quei due mesi lì hanno resistito da soli. E hanno avuto una percentuale di perdite superiore a Verdun. Vorrei chiarire questo concetto. Che hanno avuto 5.000 perdite, 5.000 morti, su 13.500 soldati impiegati. Cioè è una percentuale che neanche nell'undicesima battaglia dell'Isonzo. Eppure, così. E concludo dicendo questo. L'errore madornale è collegare Dien Bien Phu con la guerra del Vietnam americana. È un errore madornale perché non solo è una guerra che è stata combattuta strategicamente in modo diverso, ma perché i presupposti erano completamente diversi. Cioè non esisteva al tempo di Dien Bien Phu una struttura dietro che mandasse lì osservatori militari nel numero di 70.000. Questi erano quattro gatti e sono rimasti quattro gatti. E in più erano contro la storia. La verità vera è quella che la storia ormai... Siamo nel 1954. La storia ormai dice che il colonialismo è finito. Ma io sono convinto che a questi del colonialismo non gliene fregasse veramente niente. Cioè io sono assolutamente convinto che quelli che hanno combattuto a Dien Bien Phu alla fine non combattessero né per la colonia, né per la Francia, né per... Ma combattessero in fondo per lo stemma che avevano sulla spalla, lo stemma dei paracadutisti della legione straniera, piuttosto che sul basco. Combattevano per i loro ufficiali, non quelli che si arrendevano e poi tiravano su e giù la bandiera, per quelli che si sono fatti ammazzare insieme a loro. Io credo che sia questo. Dien Bien Phu da un punto di vista militare rientra alla fine, poi usciamo un attimo dalla mitologia eroica, da un punto di vista militare è una battaglia esemplare. Esemplare di come non si combatte una battaglia. Cioè una battaglia così è impostata in una maniera che sembra quasi volontariamente condotta alla sconfitta. Abbiamo detto logistica fallimentare, tattica inesistente, completa sottovalutazione, anzi mancanza di informazioni sul potenziale militare del nemico, mancanza di motivazione, mancanza di appoggio a lunga distanza, non potevano vincerla. Però siccome poi gli americani in Vietnam all'inizio almeno facevano più o meno la stessa cosa, io mi chiedo, ma questi qui erano veramente cretini, ritorno e concludo dove avevamo aperto, con quel film di Mel Gibson, che è un film americano sulla guerra del Vietnam, ma che però contiene alcuni elementi di verità. Cioè, per quale ragione? In un posto che si chiama La Valle della Morte. Non so se voi ve lo ricordate, lui prima di andare in Vietnam, vede un filmato, dove in quello stesso posto, un reparto, un reparto tra l'altro del rap francese, viene sterminato dai Viet Cong. Vengono ammazzati, c'è il trombettiere, mi pare, alla fine. Insomma, è una scena abbastanza pesante. La domanda è, perché li hanno rimandati lì? E se non ci... Ammesso non concesso che poi ci fosse stata quella iniziativa di andare all'attacco prima che gli altri attaccassero, probabilmente non è andata così, ma se non ci fosse stata quell'iniziativa, sarebbero stati anche loro distrutti esattamente come è successo a Dien Bien Phu. E anche a Dien Bien Phu, mi rifaccio al film, a un certo punto lui per radio invoca un broken arrow, che è un codice internazionale americano, che indica che quando un reparto sta per crollare, ci deve essere un intervento massiccio o di artiglieria o di aviazione che bombarda lì, intorno. Vi ricordate come si chiamava Prokorenko, quell'ufficiale russo che si è fatto uccidere combattendo in Siria, chiedendo di bombardare la sua posizione? Lui era un segnalatore, cioè era un incursore paracadutista che andava a segnalare i bersagli. Si trova con i suoi circondati e chiede di bombardare la sua posizione. Quello, nel codice internazionale, è un broken arrow. Cioè tu chiedi sostanzialmente di bombardarti perché tu sei lì, siete in tre, quegli altri sono in 300, può darsi che noi tre moriamo, ma ne ammazzi 300. Quella è l'idea. Avviene anche a Dien Bien Phu. Cioè anche a Dien Bien Phu, all'inizio della battaglia, quando ancora c'è un potenziale aereo francese di una qualche consistenza, dopo che vengono conquistate fra il 13 e il 15 i primi centri di fuoco, i primi caposaldi, anche lì viene chiesto un broken arrow e anche lì bombardano in quella maniera lì. Per cui ci sono dei precedenti identici. Ma io me lo chiedo, guardate, scusate, lo dico perché io studio la storia militare. Dico, ma com'è possibile che uno a distanza di 12 anni ripeta lo stesso identico errore? Nello stesso identico modo, in un contesto geograficamente, tatticamente, strategicamente uguale. Cioè, siamo noi che a posteriori diciamo cose facili o veramente a certe volte la sensazione che i soldati siano comandati da dei cretini. Perché io delle volte c'era veramente questa sensazione. Noi, poi davvero la chiudo, noi parliamo per esempio sempre malissimo dei generali italiani della prima guerra mondiale. È diventato quasi un tormentone. Ma non è che questi qua fossero tutti cretini. Cioè, non è che l'esercito italiano fosse comandato solo da idioti. E non è che gli altri eserciti fossero comandati tutti quanti da Napoleoni. Vi faccio un esempio volante perché fra poco sarà il centenario. Seconda battaglia dell'Esne, più nota come J'men des Dames. Sul fronte francese il generale Nivelle, che viene dalla stessa scuola dei Navarre e dei Croix de Castrie, il generale Nivelle, brillante ufficiale di carriera, prende il posto del generale Foch e diventa, scusate, no, Joffre e decide di fare una grande offensiva con cui si vincerà la guerra. Decide di attaccare delle posizioni tedesche intorno appunto allo J'men des Dames che sono sopraelevate rispetto alle posizioni francesi. Di En Bien Phu ci sono le montagne di gesso bianco anziché esserci le montagne di fango. L'offensiva Nivelle che movimenta circa due milioni di uomini fra francesi, inglesi e tedeschi costa ai francesi più di 150.000 perdite e non conquistano altro che una trincea lunga tre chilometri sullo J'men des Dames. Dopodiché prendono Nivelle, lo imbarcano e diventa capo di stato maggiore Petain, cioè quello che porterà poi la Francia alla vittoria finale. Ora io dico è possibile che vada sempre così, che gli italiani contro il Vodice e il Monte Santo, i francesi allo J'men des Dames, gli inglesi a Mons, i francesi a Dien Bien Phu, ma è possibile che questi comandanti non imparino mai dagli errori, mai? Ecco, per cui l'ultima cosa che dico è che forse paradossalmente il modo di combattere di questi poveracci che avevano, si facevano le suole con le gomme dei camion e che vivevano una vita da talpe scavando caverne di chilometri per avvicinarsi alla linea nemica e che si facevano ammazzare a frotte dicendo vabbè alla fine però, cioè forse forse questi erano militari più capaci, proiettivamente più moderni paradossalmente di quelli che avevano di fronte. Cioè non JAP che era un genio sicuramente, ma i vari comandanti di reparto del Viet Minh nel 1954 erano nella capacità adattativa che è quella che in un comandante oggi è fondamentale erano 50 anni avanti rispetto a quelli che si trovavano di fronte. Quindi non è stata solo una guerra coloniale non è stata solo uno scampolo di seconda guerra mondiale ma è stato anche una prospettiva di come sarebbe stata la guerra poi. Provate a pensare a come funziona adesso una guerra. Oggi i soldati combattono in piccoli gruppi con conoscenza estrema del territorio cablati tra loro ma puntano tutto quanto sulla logistica. Allora questi qua che non potevano contare su una tradizione militare millenaria come i francesi puntavano tutto sulla logistica e vincevano grazie alla logistica. che vi posso dire una battaglia molto particolare e contemporaneamente se devo trovare una morale una battaglia molto normale. Se dobbiamo trarne una lezione non andiamo a fare guerra in casa ad altri se non la conosciamo bene perché è come combattere al buio Diem Bien Fu è una battaglia che è stata combattuta al buio rimane bisogna dirlo e lo dico con piacere rimane soprattutto il ricordo di questi uomini straordinari che si sono fatti ammazzare a Diem Bien Fu a 50 60 anni di distanza l'unica cosa un po' amara che mi viene da dire è che mi chiedo perché cosa si sono fatti ammazzare visto come adesso siamo ridotti però vabbè insomma io la chiudo qui sono fatti ammazzare Grazie.